Scusate ritardo, è accaduto un equivoco, nel senso che ho fatto partire la diretta sulla mia pagina Facebook invece che partire su Focus, nel senso che non ero ai tempi, ecco scusate tanto, nel senso che ringrazio anzi Anna che mi ha fatto notare e mi scuso con quelli che hanno già iniziato a diciamo ad ascoltarmi, ecco, nell'altro canale. Adesso comincio adesso a fare la diretta qua, ecco, bene, scusate. Dicevo buonasera, scusatemi, l'argomento di stasera sono, benvenuti a tutti soprattutto, ben trovati, l'argomento di stasera sono i due bambini Gesù. Ciò di cui noi parliamo stasera proviene dall'indagine chiaroveggente di Rudolf Steiner, e Rudolf Steiner noi sappiamo che è un filosofo, uno scienziato, è uno storico, ma è soprattutto un chiaroveggente. Ecco, Steiner non ci racconta le sue supposizioni, le sue deduzioni, le sue associazioni, ma ci racconta le sue percezioni spirituali. Steiner ha la capacità di poter osservare in un determinato ettere che viene chiamato Cronaca della Cascia, di avvenimenti che sono scritti all'interno della storia universale. Una sorta di memoria che non è un documento, diciamo, cartaceo, è un documento eterico, in cui vengono iscritti e rimangono impresse tutte le azioni, pensieri, sentimenti di ogni individuo sulla Terra. Quindi troviamo anche ciò che è l'avvenimento del Cristo, cioè l'avvenimento di Gesù, l'avvenimento di Giulio Cesare, di ciò che è Napoleone. Chi volesse in realtà confrontare documenti storici con la realtà spirituale, dovrebbe andare, essere in grado di poter indagare in questa Cronaca della Cascia e poter appunto osservare, come chi fa il chiaroveggente ovviamente ha la capacità di poterlo fare, perché sennò non c'è possibilità, non è accessibile, ecco, di vedere e quindi raccontare. Quello che Steiner ci dice, quello che io vi riporto stasera, quindi da un lato vi è la narrazione evangelica dei Vangeli, soprattutto di Matteo e di Luca, che ci parlano appunto della nascita di Gesù, e poi l'indagine chiaroveggente di Rudolf Steiner, in cui in una sorta di quinto Vangelo che si affianca ai quattro conosciuti, questo è un Vangelo occulto potremmo dire, vediamo un retroscena che non conosciamo, che non c'è dato di conoscere. Anzi a me mi pone in imbarazzo anche parlare di queste tematiche che erano e sono qualcosa riservato a un pubblico, non pubblico come questo, quindi può essere anche un azzardo farlo. E vi chiedo di essere spregiudicati in questo, di poter accogliere queste comunicazioni, che eroveggenti, ripeto, non sono associazioni, ma sono osservazioni, percezioni che Rudolf Steiner fa nella cronaca della cascia, con uno spirito aperto, perché da questa opportunità possiamo gettare luce su avvenimenti del Vangelo che rimangono assolutamente, se no, inspiegabili. E vedremo che ci sono delle incongruenze, ci sono degli equivoci, ci sono delle contraddizioni, che non sarebbero risolvibili se non attraverso appunto un'indagine occulta. Io stasera vi parlerò dei due bambini Gesù, adesso capirete perché dico due bambini Gesù, mentre con Anna Tamburinitore il 23 dicembre, nel suo salotto, parleremo del mistero, diciamo, della epifania, quindi della manifestazione del Cristo sul Giordano. Prima di tutto dobbiamo dire che siamo abituati a vedere Gesù, Gesù Cristo, come un individuo che cammina per Nazare, poi si trova, nasce a Betlemme, e barba, baffi, in giro, discepoli. Non distinguiamo Cristo da Gesù, pensiamo che Gesù e Cristo siano la stessa cosa. È così, ma lo è soltanto dal trentesimo anno. Possiamo parlare, infatti, di Gesù dalla nascita a Betlemme fino al momento in cui viene battezzato, e questo accade il 6 gennaio, sul Giordano da Giovanni Battista. Quando Gesù va sul Giordano, Giovanni Battista vede discendere su Gesù una colomba, e questa colomba è lo Spirito del Cristo, che penetra nel corpo di Gesù, e da quel momento possiamo parlare della manifestazione, dell'epifania del Cristo, rivelazione del Cristo, vuol dire questo. Con Anna spiegheremo il perché si chiama Befana oggi, però, e vedremo che meraviglia di lavoro possiamo compiere in queste 13 notti sante, che vanno dal 24 dicembre al 6 gennaio. La possibilità di vedere nei sogni che faremo in questo periodo in anticipo la preveggenza di quello che accadrà l'anno prossimo. Adesso non vi dico nulla perché se no bruciamo l'incontro, voglio lasciarvi un po' di suspense, se così si può dire, per l'incontro del 23. Oggi io voglio portarvi assolutamente questo mistero di Gesù e soprattutto cercare di comprendere chi è da un lato Gesù e da un lato Cristo. Io farei così. Se voi sapete, per esempio, che di solito non dissociamo questi individui, cioè noi pensiamo che Gesù e Cristo siano la stessa persona. Il Gesuitismo, che è la corrente, potremmo dire, cattolica, parla di diventare soldati di Cristo. Quindi coloro che sono i soldati di Cristo, si potrebbe dire, sono coloro che seguono il re Gesù. Cioè Gesù viene visto come un condottiero, come un guerriero, come un re del mondo dello spirito. E chi aderisce a questa dottrina è, si potrebbe dire, un soldato del suo re Amen. Scusa, un attimo solo che mi chiamano, vorrei che fosse... Sì, pronto? Sì. Scusate un attimo che c'era un'interferenza, perdono. Dunque, c'è la corrente gesuitica che parla di Gesù come un condottiero. E questo lo possiamo vedere fra i gesuiti. Noi, popolo italiano, i popoli latini, in cui è nato e sviluppato il cattolicesimo, ci hanno sempre insegnato che Gesù è un umile umano, che però riconosce di essere Dio sin dalla nascita e rimane Dio fino sulla croce. Quindi, non fa differenza fra ciò che accade sul suo Giordano. Infatti, uno dovrebbe chiederci, ma allora, che cos'è accaduto sul Giordano? Questo Spirito Santo cosa simbolizza? Se Cristo era già compiuto, se Cristo era già dentro a Gesù quando nasce. Perché? C'è voluto questo riconoscimento dal parte di Giovanni Battista. Di fatto, i gesuiti, con i loro esercizi spirituali, per esempio di Ignazio e di Loyola, spingono e spingevano e demedesimarsi nelle vicende attraversate da Gesù sulla Terra, nella passione. Cioè, quindi, il discepolo cattolico dovrebbe, di fatto, compiere ciò che Gesù ha fatto durante la sua venuta sulla Terra. Voi sapete che si parla di diverse fasi dell'iniziazione gesuitica. La lavanda dei piedi, la flagellazione, l'incoronazione di spine, la crocifissione, la morte mistica, la sepoltura, la ressurrezione, l'ascensione. E potremmo dire, questo è il mistero di ciò che è la scuola di Ignazio e di Loyola, il quale professa l'iniziazione gesuitica. Ecco. Ecco, questa iniziazione gesuitica segue Gesù. E non segue però Cristo. Invece noi potremmo dire che i Rosa Croce seguono l'elemento del Cristo come qualcosa a sé stante. vedono insidiarsi l'individualità del Cristo in Gesù soltanto nel battesimo. Adesso cerchiamo di capire bene perché mi rendo conto che cosa vuol dire separare Gesù da Cristo? Significa che prima Gesù è un essere umano e al trentesimo anno viene investito di un potere, di una forza che si chiama Cristo, l'unto potremmo dire, il Messia potremmo dire. Da quel momento, dai trent'anni fino ai trentatré anni diventa quello che noi chiamiamo il Cristo Gesù fino alla sua morte. Ecco. Cerchiamo di capire bene questo passaggio. Ecco. il Cristo non è il vero nome della forza che entra dentro Gesù di Nazareth perché in realtà per poter comprendere questa forza noi dobbiamo come farci prendere da una vertigine. È una cosa grandiosa cioè l'essere che parla ai discepoli e noi troviamo rivelarsi sul Giordano è un'entità altissima al di sopra delle gerarchie. Noi sappiamo che stranamente forse alcuni non lo sanno però ci sono tantissime tradizioni che enunciano la nascita del loro profeta del loro Messia del loro avatar il 25 dicembre Hermes nasce in Grecia 200 anni prima di Cristo il 25 dicembre Dionisio nasce 500 anni prima di Cristo il 25 dicembre Buddha 600 anni prima di Cristo il 25 Zaratustra il 25 Krishna il 25 Ercole Dionisio Mitra e Horus nascono tutti il 25 dicembre nelle leggende e uno potrebbe dirsi ma accidenti ma cosa nascono? No anzi è ancora peggio ma abbiamo copiato abbiamo preso il mistero mondiale e l'abbiamo creato nel rito del cristianesimo sbagliato questi di cui abbiamo parlato ora tutti questi personaggi che ho citato sono profetti sono avatar sono qualcosa che annunciava il mistero che si realizza soltanto sul Golgota nel momento in cui Cristo viene crocefisso voi sapete che le ultime parole del Cristo sulla croce sono tutto è compiuto e che significano in questo momento si compie tutto ciò che finora è stato come prefigurato presentito vissuto in tutte le tradizioni del mondo in tutte le tradizioni del mondo viveva il presentimento che sarebbe venuto sulla terra un dio a parlare in un corpo agli uomini dio sarebbe trasceso dal cielo e sarebbe venuto a abitare sulla terra ecco la differenza fra Cristo e tutti questi avatar è che questi avatar sono umani sono individui umani questo essere Cristo non è umano cioè è un essere sovrasensibile che adesso cerco di spiegare di balbettare cosa poteva essere che entra nella dimensione spaziale e temporale umana nella corrente del tempo e da quel momento inizia la vita sapete che avanti Cristo e dopo Cristo inizia il tempo noi il tempo lo cominciamo a denominare dall'evento Cristo anche i laici anche gli atei dicono avanti Cristo e dopo Cristo come se fosse il signore del tempo entrasse nella corrente del tempo cerco voglio cercare di essere più chiaro perché è importante capire questa differenza fra Gesù e Cristo e i profeti perché in molte confessioni ecumeniche potremmo dire olistiche si pensa che Gesù e Cristo sia uguale a Krishna siano tutte manifestazioni diciamo in qualche modo del mondo spirituale ma invece no cioè anche Steiner stesso si distaccò dalla teosofia per il fatto che non era d'accordo sul fatto di ritenere Cristo alla pari di tutti i profeti tutti i profeti annunciavano la venuta del Cristo ogni tradizione mondiale ci avvisava che sarebbe venuto Dio sulla terra perché dico Dio sulla terra e non il Messia perché Dio sulla terra ce lo dice Giovanni Giovanni che potremmo dire il discepolo prediletto di Cristo ci racconta proprio all'inizio del Vangelo ci racconta chi è Cristo chi è colui che ha guardato negli occhi colui che ha abbracciato sulla terra e non ci parla di Gesù lo chiama Gesù anche però se noi leggiamo il prologo possiamo avere una spiegazione sapete che il prologo dice ovviamente questo è in greco in principio era il logos il logos era presso Dio il logos era Dio per mezzo di lui per mezzo del logos di solito viene tradotto anche con parola o verbo in principio era la parola in principio era il verbo per mezzo di lui sono state fatte tutte le cose senza di lui nulla fu fatto di quanto esiste in lui era la vita e la vita è la luce degli uomini la luce brilla nelle tenebre e le tenebre non l'hanno accolta praticamente Giovanni qua ci dice adesso vi dico io chi è chi ho conosciuto io ho conosciuto e ho visto incarnato in tre anni dentro un corpo di un umano che si chiamava Gesù colui che ha creato il mondo cioè il creatore del mondo la seconda persona della Trinità quella che nella Trinità viene chiamata figlio figlio di Dio cioè il padre nella Trinità il figlio e lo Spirito Santo e sapete che queste immagini girano nel Vangelo il padre che parla oltre le nubi lo Spirito Santo che viene e ad ombra illumina potremmo dire piuttosto il Cristo e sono tutte testimonianze della Trinità che entra in un corpo ma ci entra attraverso il figlio quindi Giovanni dice se volete capire chi è Cristo voi dovete appellarvi a un principio universale che ha creato il mondo nel principio del Logos vuol dire che il principio che ha creato il mondo e non tutti questi lo avvertono forse lo fanno lo riescono a sentire quelli che hanno una certa devozione il Cristo che parla ai discepoli non è un Messia soltanto non è un profeta soltanto non è un avatar soltanto ma è il creatore del mondo che entra in un corpo e parla agli uomini è Dio che parla e cammina cammina sulla spiaggia con i discepoli Dio colui che crea e ha creato il mondo vuole sperimentare cosa vuol dire essere umani vive in un corpo fa l'esperienza del vivere nel sangue di mangiare di dormire tutte le esperienze che fa l'essere umano il Dio creatore del mondo vuole diventare ne partecipe non vuole escludere l'uomo dicendo sei un esperimento cosmico tu sei devi essere guidato per portare avanti il progetto del cosmo no non abbandona l'uomo entra nella storia nel tempo umano e vuole vivere l'umanità si mette sullo stesso piano dell'uomo per indicargli ovviamente anche un cammino che è poi il cammino che ognuno di noi dovrebbe compiere adesso piano piano eh voglio cercare di illuminare il più possibile questo aspetto ecco noi potremmo dire che Cristo è uno dei nomi di questa entità che va al di là delle gerarchie voi sapete che ci sono c'è il regno minerale il regno vegetale il regno animale il regno umano sopra di noi ci sono angeli arcangeli arcai exusiei dynamis chiriotetes troni cherubini serafini al di sopra dei serafini abbiamo quella che viene chiamato il pleroma cioè la trinità che è costituita di tre individualità ineffabili che chiamiamo appunto padre figlio e spirito santo ecco noi dobbiamo individuare Gesù Cristo nella seconda persona della trinità quindi dovremmo pensare che il Cristo ha tre manifestazioni come nella trinità nell'universo si manifesta in tre modi noi dobbiamo parlare di figlio come appartenente alla trinità quando lo vediamo come forza di configurazione cosmica delle costellazioni colui che dà la vita al mondo e tiene insieme l'universo è il figlio è una ovviamente un'immagine grandiosa universale al di là di angeli la forza della vita potremmo dire la forza dell'amore cosmico è il figlio si differenzia dal padre dallo spirito santo e quindi quando opera come figlio è ciò che regge la gravitazione universale ma non ha solo quel ruolo può anche entrare più nello specifico può entrare in un sistema solare fra questi dell'universo e agire dall'interno del sole non agisce più dalle stelle ma agisce dal sole ecco quando agisce come forza di irraggiamento della vita perché il sole dà la vita dal calore dalla luce non si chiama più figlio ma si chiama logos ecco logos è quel nome che Giovanni chiama come dio del sole quando il figlio che è la forza di configurazione che ha creato il mondo si comprime e diventa il sole lo chiamiamo logos quando sapete che il sole illumina e dà calore e c'è qualcosa in noi che ha un'analogia con tutto questo c'è qualcosa in noi che dà la temperatura del sangue e che illumina il nostro pensiero ecco quella forza che nel cosmo si chiama figlio e regge il mondo la vita del mondo quella forza che nel sistema solare dalla luce e la vita e chiamiamo sole e logos dentro all'uomo noi lo chiamiamo io Cristo adesso noi non siamo ancora Cristo siamo un io però siamo chiamati a cercare di individualizzare lo spirito di Cristo e identificarci con questo spirito sono parole difficili lo so sono parole che non vanno solo capite ma vanno realizzate ma stasera noi non dobbiamo fare un percorso di iniziazione però io ci tengo a fare in modo che vi abbiate davanti a voi in un'immagine che non è solo di un essere umano ma del Dio che crea l'universo entra in un corpo sul Giordano e parla agli uomini fino a essere sacrificato sulla croce potremmo chiederci se siamo all'altezza di tutto questo se ci meritiamo questo cioè anche perché questo individuo universale non viene soltanto per tutta l'umanità ma viene per noi stessi quindi è importante chiedersi se noi siamo all'altezza di sostenere questo tipo di comunicazione se riusciamo a sopportare questa grandezza provo ad andare avanti quindi il Cristo forza di gravitazione universale lo chiamiamo figlio o demiurgo quando è il sole lo chiamiamo logos o parola e quando opera all'interno dell'uomo come parola come voce della coscienza come attività dell'anima cosciente consapevole e responsabile diventiamo Cristo diventiamo io umano quindi è una forza che non abita solo in Gesù è una forza che è nel cosmo è nel sole ed è dentro al nostro io cioè noi stessi possiamo diventare questo riconoscerci in questo spirito uno potrebbe dire ma io sono Tiziano non sono Cristo e per ora sì però io posso arrivare a un punto io lo dico con un aspiccio in cui posso sentire che la mia parte di Tiziano non è più Tiziano ma diventa della stessa natura di Dio e se io riconosco in me allora è Natale Natale è quando Tiziano si accorge che dentro di lui è nato Cristo e cosa vuol dire che è nato Cristo che è nato il suo spirito che il bambino che è dentro al cuore di Tiziano diventa manifesto io smetto di chiamarmi Tiziano e dico Cristo in me quando dico Cristo in me in realtà non è che mi rivolgo a Gesù di Nazareth io mi rinvolgo come identità e somiglianza e immagine al creatore del mondo non divento il creatore del mondo però sento che c'è qualcosa in me che è della stessa natura di Dio del creatore del mondo del demiurgo del logos c'è qualcosa che ho in comune col sole perché c'è il sole come dice Giovanni che è la vita del mondo ma è luce nell'uomo mi produce la possibilità di pensare mi illumina da dentro l'illuminazione l'illuminato è colui che riesce ad accogliersi di essere un Dio e Natale non è solo il 25 dicembre Natale è il simbolo di qualcosa che è nato nell'umano ma può nascere ogni giorno quando l'individuo si rende conto che dentro di sé c'è un potenziale Dio e per farlo bisogna fare qualcosa allora la cosa è risolta allora è Natale Natale può essere tutti i giorni però è anche giusto viverlo il Natale come una festa perché prima o poi uno si pone il problema ma il Natale è il simbolo del momento della massima oscurità dentro di noi del massimo freddo del massimo gelo del massimo egoismo della massima perdizione in cui nasce dentro di fianco all'eros del bue fianco all'intelligenza dell'azinello nasce questo bambino che è il nostro io ecco io spero di aver balbettato qualcosa che possa essere coerente ma è qualcosa di veramente universale pensare è anche riduttivo pensare soltanto a Gesù e basta cioè pensare che Dio viene sulla terra e vuole che noi lo riconosciamo parte di noi e gli diamo testimonianza ci accorgiamo che siamo portatori di un essere divino è una cosa grandiosa cioè quando uno essere si accorge di essere Dio è Natale per lui cioè è nato noi siamo nati e siamo parte dell'immortalità non siamo più esseri umani e basta siamo diventati dei questa nascita è una nascita che possiamo compiere ognuno di noi questo lo dico perché casomai vivere il Natale con questo sentimento è diverso che immaginarlo fra le vetrine dei negozi fra le palle dell'albero di Natale e fra i decreti ministeriali sapere che dentro di noi vive un essere speciale vive un bambino che vuole essere riconosciuto ed è quello che ci dà la luce il calore dentro è essere della stessa natura di Cristo essere di stessa natura del demiurgo essere della stessa natura del sole bene speriamo che che c'è qualcosa che cioè mi è difficile ripeto l'ho detto nell'altra comunicazione parlare perché io non vi vedo ed è un grande dispiacere non vedervi perché quando io incontro le persone riesco a sintonizzarmi con gli occhi con gli stati d'animo con l'aura che si svolge in quella stanza e quindi riesco a capire anche l'anellito il desiderio la partecipazione io davanti sono sono davanti a un abisso come se scorresse qualcosa di di grandioso certamente perché grazie ad Arimane che ci dà questa possibilità di comunicarci perché no grazie fratello Arimane uno potrebbe dire ma questo è un satanista che dice grazie Arimane no grazie come diceva San Francesco grazie a tutto e grazie perché ci possibilità di fare questo però ricordiamoci che noi stessi siamo uomini e siamo veri uomini solo quando ci incontriamo nel reale Tiziano Bellucci non è una cosa che vive nello schermo Tiziano Bellucci ha anche lui la sua vita è venuto sulla terra e cerca di capire il senso della sua esistenza come voi che siete collegati cercate di farlo e Balbetta sbaglia lessicalmente delle parole non è uno che ha fatto le scuole alte è un individuo come tanti che si sforza di cercare di capire quella luce che in lui vuole cercare una testimonianza c'è qualcosa in ognuno di voi che vi chiede di testimoniare la presenza di Dio in voi quando Giovanni dice c'è qualcuno che viene dopo di me ma che è più grande di me e io devo portare testimonianza a lui dice queste cose voce di uno che grida nel deserto comincia a sentire che in lui vive qualcosa che non è il suo io transitorio ma c'è qualcosa di grandioso che è venuto sulla terra per dirvi sei un Dio sei immortale non hai nulla da temere sì certo il dolore la sofferenza ma tutto passa tutto è transitorio c'è qualcosa che rimane per sempre questo è lo spirito che vive in te non esiste la morte per lo spirito esiste per l'anima esiste per il corpo ma non c'è nulla che può distruggere lo spirito perché lo spirito è invulnerabile lo spirito è il creatore perdono scusate non voglio mica farvi la messa pre festiva ecco e la questa era importante per dare questa immagine adesso andiamo e invece a vedere da dove viene nella parola l'uomo Gesù adesso ho cercato di caratterizzare un po' che cos'è il Logos Logos come creatura universale come essere universale che entra in un uomo ma per fare in modo che questo Dio venisse sulla terra è servito un uomo e non è che questo Dio si è fatto un corpo da sé no è stato prefigurato guardate un piano una tessitura meravigliosa che adesso cercheremo di capire io vi prego di stare aperti perché quello che dirò alla maggior parte di voi sarà nuovo perché non è scritto in nessuna tradizione se non in questa indagine che Stanley ci porta e vedremo che ci si aprirà un mondo ecco allora chi era Gesù e chi è noi dobbiamo pensare che per poter fare in modo che ci fosse un uomo che potesse ospitare il Dio creatore dell'universo e non venisse fulminato dalla potenza enorme di questa entità ci voleva un corpo speciale e un'anima speciale quindi adesso vedremo che per poter creare questo sono concorse insieme varie due tradizioni in particolare una corrente che ha creato il corpo proprio il corpo fisico dove ci entra il Cristo e un'altra corrente che ha predisposto l'anima voi sapete che noi siamo comporti da un corpo da un'anima e uno spirito noi potremmo dire che c'è una parte in Gesù che è il suo corpo che appartiene a una corrente l'anima appartiene a un'altra corrente e il suo io appartiene a diciamo a Dio cerchiamo di capire bene questa discesa dobbiamo pensare che questa compressione che Dio fa dal cosmo verso il sole e poi dal sole entra dentro un corpo aveva bisogno di una mediazione potente di un essere che proveniva dalle gerarchie non poteva essere solo un uomo no quel corpo non cioè questo principio universale avrebbe distrutto un corpo umano quindi si è dovuto come prefigurare qualcosa che potesse espitarlo Steiner parla della partecipazione di due correnti una corrente che potremmo dire proviene dal nord e una corrente che proviene dal sud diciamo di tradizioni spirituali che confluiscono insieme e vi prego di rimanere aperti non mi smetterò mai di dirlo per creare qualcosa che possa sostenere questa entrata dello spirito dell'universo in un corpo Steiner ci parla prima di una corrente spirituale che è quella che darà il corpo purissimo che noi vedremo sulla croce che adesso cercherò di spiegare e un'altra corrente che si unisce a questo corpo che proviene invece da il più grande iniziato terrestre quindi ci voleva un corpo purissimo dal quale uscisse quel sangue che poi dopo feconda la terra e in qualche modo lenisce come balsamo l'egoismo terrestre però ci vorreva prima di far questo anche un'intelligenza una profondità enorme che quel corpo non poteva avere cioè non poteva nascere un individuo che non cioè in realtà doveva nascere un corpo purissimo privo di peccato originale non doveva avere il peccato originale mentre noi tutti sapete che il peccato originale è essere nati da un corpo di donna infatti si racconta che questo corpo nasce da un atto di purezza anche qui dobbiamo cercare di capire cosa intende per purezza per immacolata immacolato immacolato rapporto ecco per virginità cosa si intende ecco quindi qui dobbiamo pensare che serviva un corpo che non fosse passato per una generazione diciamo egoistica e un intelletto un'anima elevatissima che si distaccasse da tutti gli umani prima adesso analizziamo la corrente del corpo pure e Steiner ci dice che quando venne creato Adamo all'inizio sapete Adamo nel Genesi e Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza e si dice che è una parte di questa entità di Adamo e se voi volete se avete presente esiste un quadro di Michelangelo in cui si vede la creazione sapete quella immagine in cui si vede Dio che fa questo gesto Dio che dà il dito ad Adamo è molto celebre voi vedrete se andate a vedervelo che c'è il padre che trattiene dietro di sé un bambino e il padre è su una nuvola adesso io non ve lo posso mostrare perché l'ho sul muro trattiene un bambino Steiner dice che questa immagine è un progetto che viene pensato quando viene creato Adamo perché si sapeva che si doveva isolare una parte dell'umanità perché quell'anima doveva incorporarsi e servire come corpo poi a Cristo mi spiego meglio Adamo non è solo un uomo Adamo è l'umanità quando Dio crea l'umanità crea lo spirito dell'umanità e Adamo è lo spirito di tutti gli umani ecco da questo spirito di umano che poi diventerà e passerà attraverso la tentazione di Lucifero del serpente creerà la dimensione umana l'umanità ci sarà però una scintilla di spirito che verrà come tenuta nel mondo spirituale e non si incarnerà mai se volete farmi una rappresentazione più meno esoterica pensate che Adamo diventa uomo e c'è un'altra parte di quello spirito di Adamo che viene trattenuta nel mondo e però non fa parte dell'evoluzione regolare rimane nei mondi spirituali quindi c'è un altro Adamo se volete che non si incarna mai e non partecipa all'evoluzione rimane nei mondi spirituali e addirittura compie dei passaggi evolutivi di ascesa che da umano diventa angelo fino a diventare arcangelo quindi esiste nei cieli esisteva un arcangelo umano che non aveva mai messo un piede sulla terra non si era mai incarnato mentre l'umanità continuava a vivere e c'erano la generazione dei lemuri degli atlantidei degli egizi dei persiani degli indiani nei cieli c'è questa entità che è stata come trattenuta tenuta in serbo la primizia potremmo dire di Adamo e è quella che compare nel ventre o meglio a Betlemme il 25 dicembre ecco questo arcangelo umano che non è stato che è la prima volta che si incarna quindi un bambino che non ha nessuna esperienza un essere umano che se noi lo andiamo analizzare poteva sembrare anche un bambino strano forse autistico perché non aveva mai avuto relazione era la prima volta che veniva sulla terra era inesperto dietro non aveva nessun karma non aveva nessun destino era un bambino purissimo un bambino cosmico un bambino che non era relazionato con la terra ecco questo bambino vedremo è una parte di Gesù perché dite una parte di Gesù? perché la cosa adesso si complica adesso vi prego di nuovo di stare aperti quindi un essere speciale un arcangelo umano puro nasce il 25 dicembre ecco però per fare in modo che come ho detto prima questo corpo dell'arcangelo umano potesse poi andare sulla croce non sarebbe potuto accadere che in modo naturale perché serviva la guida di questo bambino da dove lo andiamo a prendere il carisma la personalità da mettere dentro a quel bambino perché no se no non avremmo avuto il Gesù che abbiamo avremmo avuto un essere assolutamente solare un essere assolutamente sorridente alla vita ma senza consapevolezza senza coscienza perché per avere questo bisogna essere umani è perché noi viviamo continuamente nelle vite che la nostra esperienza ci ha reso sempre più umani ci ha reso sempre più egoisti ma anche sempre più scaltri sempre più umanizzati un individuo che viene sulla terra per la prima volta è un essere purissimo è un bambino sarebbe rimasto bambino per tutta l'esistenza non sarebbe mai cresciuto uno potrebbe dire l'abbiamo visto come un bambino problematico noi diremmo ai tempi di oggi invece era un bambino purissimo un bambino assolutamente cosmico ecco per fare in modo di poter incontrare il Gesù che conosciamo serviva un altro elemento serviva un purissimo elaboratissimo umano il più grande iniziato della terra e questo è Zarathustra Zarathustra il persiano che nasce forse 7000 anni prima di Cristo e pochi conoscono è in realtà il più grande individuo maestro che tuttora fa parte appunto della confraternice dei maestri ecco quindi questo iniziato umano potremmo dire si mette adesso potremmo dire incontra quest'altro essere quindi vedrete che adesso vi racconterò una vicenda che che forse da un lato vi scandalizzerà ma da un lato vi darà anche una soluzione a tanti enigmi ecco dunque occorreva un'anima purissima e un corpo potentissimo per poter realizzare il mistero del Golgotha dunque cerco di farlo cerco di fare una sintesi in me che possa darvi questo Zarathustra che è dall'altra parte da una parte abbiamo l'arcangelo umano e da una parte abbiamo Zarathustra e ha a che fare con Auras Masdau Zarathustra è un essere che vive in un tempo remotissimo molto prima di Cristo ecco 7000 anni prima di Cristo il detentore addirittura della sapienza atlantidea ecco Zarathustra 7000 anni di Cristo si dice che alla sua morte lascia i suoi corponenti occulti il suo corpo strale a Ermete trismegisto e il suo corpo eterico a Mosè quindi la corrente di Mosè e di Ermete egizio nascono dal fatto che Zarathustra collabora a creare questa grande religione ecco nel VI secolo si reincarna nel 600 a.C. si reincarna in Nazarath Nazaratos o Zarathas e diviene maestro di un certo Pitagora che forse qualcuno di voi conosce ecco tuttora Zarathustra fa parte dei 12 maestri che si reincarnano come guida del mondo spirituale e questo Zarathustra viene chiamato a destra maestro dell'altipiano ed è l'essere che abitò dai 12 ai 30 anni nel corpo di Gesù perché perché i 12 non dai non dall'inizio adesso dobbiamo cercare di capire un attimo ecco allora noi sappiamo vi prego abbiate pazienza so che ne avete tanta ecco ma spero che la vostra curiosità vi faccia sopportare adesso quello che andremo a dire non perché è complicato ma perché potrebbe sembrare un po' surreale allora se dalla caronaca della cassa ci spostiamo sui Vangeli di Matteo e di Luca che sono quelli che ci parlano della Natività perché il Vangelo di Marco e di Giovanni non ci parlano della Natività cominciano a parlare di Cristo sul battesimo se voi li aprite Marco e Giovanni non parlano della Natività soltanto Matteo e Luca ci parlano di come nasce Gesù allora cominciamo a partire dalle contraddizioni io vi farò tutta una storia di contraddizioni per farvi capire che Matteo e Luca parlano di Gesù e noi da bravi materialisti ma io parlo anche come come cattolici abbiamo sempre preso tutti e quattro nei Vangeli li abbiamo messi insieme abbiamo fatto un minestrone e abbiamo pensato che tutti parlassero della stessa cosa no? e vedrete che non parlano della stessa cosa anzi ci sono delle contraddizioni nei Vangeli che sembrano escludere una cosa e l'altra ovviamente siccome si ha una visione materialistica si dice ma ognuno la vedeva a modo suo e quindi ha raccontato questa vicenda secondo quello che ha saputo è però un conto è una cosa che è l'opposto dell'altra vedrete che compa intanto io ve le dico poi fatevi voi una vostra idea il concetto è questo ci sono contraddizioni fra i due Vangeli che non si riescono a spiegare allora prima di tutto nel Vangelo di Luca si dice che Gesù nasce in una mangiatoia quindi in una stalla con gli animali vero? e noi l'immagine del presepe che spesso abbiamo è questa ma se voi prendete il Vangelo di Matteo si dice che non nasce in una mangiatoia ma nasce in una casa cioè nel senso che Matteo siccome è diversa la narrazione Gesù nasce in una camera che aveva preso in affitto Giuseppe allora già qui dobbiamo metterci d'accordo ma allora nasce in una mangiatoia o nasce dentro una stanza perché è un conto andare a partorire sapete che non c'era posto nell'albergo no e quindi vanno in una mangiatoia e invece no nel Vangelo di Matteo non si parla dell'albergo anche perché non si parla del censimento adesso lo vedremo e quindi nasce in una in una casa vabbè questa diciamo che non è una contraddizione però lo è perché io se nasco in una mangiatoia in una stalla e nasco dentro la casa è diverso no quindi perché devo dire una cosa se è un'altra intanto una è questa una grossa contraddizione è questa che nei due Vangeli vengono presentate proprio all'inizio due tabelle genealogiche cioè di genealogia di Giuseppe si noti Giuseppe diverse nel senso la genealogia di di uno ha 41 discendenti l'altro ne ha 26 ecco e queste due tabelle genealogiche da cui proviene Giuseppe non si riferiscono alla stessa persona faccio vedere ora nel Vangelo di Luca ci sono 41 discendenti cioè pensate che Luca si prende la premura di andare a dire Gesù quando incominciò il suo ministero aveva circa 30 anni col battesimo era il figlio come si credeva di Giuseppe figlio di Eli di Mattia e dice 41 nomi fino ad arrivare a Adamo quindi da Giuseppe si percorre tutte le generazioni fino ad Adamo quindi si dice che Giuseppe è ha il suo sangue collegato fino ad Adamo Giuseppe ok noi sappiamo che Giuseppe non ha partecipato alla creazione di Gesù ma è stato lo Spirito Santo già qui uno potrebbe dirsi ma dopo ne parleremo dopo casomai del problema della della fecondazione dello Spirito Santo problema del dogma dello Spirito Santo perché ci si dovrebbe chiedere perché Luca ci racconta tutti i discendenti di Giuseppe se non c'è stata una partecipazione nel sangue perché Gesù era figlio di Giuseppe il quale aveva tutti questi discendenti la stessa cosa fa Matteo solo che lui ci parla di 26 discendenti Gesù figlio di Davide figlio di Abramo e praticamente si va non fino ad Adamo ma fino ad Abramo si ferma prima e uno potrebbe dire ma perché ma no perché si vede che l'altro era più meticoloso e invece Luca era più meticoloso e anche qui si parla di Giuseppe Giuseppe le generazioni che non ha partecipato ecco per affrontare questo vorrei farlo un attimo se c'è calma dopo perché il problema della virginità di Maria e il problema della 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 fecondazione di Gabriele è molto delicato e non è tanto qualcosa che si dovrebbe comunicare così via privata vediamo se comunque nasce spontaneamente ecco la cosa importante è questa che c'è sembrerebbe che Matteo e Luca oltre a presentarci la generazione la genealogia di Davide e di Salomone si parla di Abramo e di Adamo ecco però la cosa strana è che nelle varie genealogie potremmo dire che uno Luca per esempio ci parla di un figlio legato a Davide che si chiama Nathan che non compare nella genealogia che c'è invece di Matteo e invece Matteo ci parla di un figlio di Davide che si chiama Solomone che è più noto quindi potremmo dire che Matteo ci parla di una linea che è nata e confluita e andata verso Giuseppe da Salomone e Luca ci parla invece di una via che parte da Nathan e va giù verso Giuseppe quindi la via natanica è di Luca la via salomonica è di Matteo voi direte ma che ci frega di tutto questo no è importante perché cioè allora o discende da Salomone o discende da Nathan uno potrebbe dire ma vabbè passi viene Abramo viene da Adamo anche lui però perché uno parte da Abramo e uno parte da Adamo ci sarà un motivo perché uno nelle correnti della discendenza mette due figli i due figli sono tanti figli di Davide perché fu un re che ebbe tanti figli però Luca ci dice Giuseppe proviene da Nathan e Nathan dice no proviene da Salomone e bisogna che ci mettiamo d'accordo perché non è la stessa persona cioè Nathan e Salomone erano due persone diverse quindi o viene da Nathan o viene da Salomone diciamo e Matteo Matteo e Luca si conoscevano non è che erano nemici quindi ci sarà un motivo perché parlano di due genealogie diverse ok e questo è una prima contraddizione seconda contraddizione sono sette dovete ascoltarle Matteo e l'annuncio della nascita di Gesù viene dato in sogno da Giuseppe e dice mentre Giuseppe stava pensando a queste cose ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e disse Giuseppe il figlio di Davide non temere di prendere con te Maria tua sposa perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo essa partorirà un figlio e lo chiamerà a Gesù quindi l'annuncio è l'angelo in Matteo nel Vangelo di Matteo è l'angelo che lo dice direttamente a Giuseppe che ovviamente Giuseppe trova Maria incinta e dice oh Dio mio ma che è successo io non sono stato io non l'ho fatto nulla io non l'ho toccata non l'ho toccato vi giuro che non sono stato io e dice l'angelo sì hai ragione tu non hai coscienza non puoi essere cosciente di quello che è nella mente di Dio Maria avrà un figlio e tu gli darai il nome Giuseppe e Giuseppe dal nome Gesù scusate invece in Luca vi è l'annuncio dell'arcangelo Gabriele Gabriele l'annunciazione dice nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide Giuseppe vedete che qua dice Davide è uno dei sempre si riferisce a Davide il padre di due figli la vergine si chiamava Maria entrando da lei ti saluto o piena di grazie il Signore è con te e si dice che in quel momento dal punto di vista del verbo di Gabriele si ha una fecondizione auricolare attraverso la parola di Gabriele e Maria rimane incinta allora noi mettiamo sempre insieme noi quando ce lo raccontavano in chiesa sembra che allora un angelo Gabriele l'arcangelo vada a Maria e un altro angelo vada a Giuseppe e no perché non è mica che è scritto così cioè non è che Matteo è d'accordo di questa cosa Matteo dice che è un angelo vada a Giuseppe e invece Luca c'è un arcangelo Gabriele che vada a Maria ma questa cosa di metterla insieme non so perché lo si fa perché siamo abituati in materiali estremi a prendere insieme delle nozioni e fare un minestrone ma se ci va un angelo da Giuseppe e ci va un arcangelo da Maria è un'altra cosa questa è la seconda contraddizione ecco se volete possiamo toccare quello che Steiner dice riguardo lo do una battuta poi se volete lo approfondite c'è modo di approfondirlo nei testi di Rudolf Steiner sia nel quinto vangelo di Steiner nel vangelo di Matteo e nel vangelo di Luca di Steiner i commenti Steiner dice perché negare la partecipazione di Giuseppe alla progenia alla nascita se prima tutti e due gli evangelisti hanno fatto una ricerca grandissima per enunciare tutte le generazioni perché perché poi escludero se non è nato dal sangue di Giuseppe perché devo parlare di tutti i suoi avi questo ovviamente gli evangelisti lo fanno perché doveva nascere dal ceppo di Giuseppe ma è questo ceppo è del sangue quindi ci deve essere una partecipazione del sangue se no che senso ha dire che questi sono i progenitori di Giuseppe avrebbero dovuto dire questi sono i progenitori di Maria semmai e no si parla di Giuseppe dalla linea del sangue di Giuseppe ecco Rudolf Steiner dice qualcosa che io voglio soltanto toccare perché non voglio toccare i dogmi di nessuno perché è qualcosa di molto delicato Steiner dice che la procreazione nell'antichità prima che noi venessimo sulla terra come esseri umani incarnati in un corpo egoistico avveniva secondo certi ritmi attraverso la luna attraverso il sole gli esseri umani come fanno gli animali adesso si accoppiavano soltanto per dettami di leggi superiori quindi l'uomo non andava a corteggiare una donna per il suo piacere ma quando era il momento degli amori i due si si mettevano insieme dormivano insieme e durante il sonno nella piena incoscienza venivano come guidati a fare l'amore nel sonno mentre dormivano ecco questo tipo di rito che veniva compito nel tempio veniva ovviamente anche gestito per esempio da entità superiori dagli angeli custodi degli esseri stessi in cui in modo inconsapevole loro si univano e diciamo la fecondazione veniva nel sonno quindi loro non erano consapevoli di stare facendo l'amore si svegliavano non sapevano di avere concepito però in realtà il ventre vi era il seme io non voglio dire che Steiner dice la stessa cosa però lui si rifà questo per giustificare questo quindi la partecipazione di praticamente la purezza di Maria sta nel fatto che l'atto sessuale non viene compiuto in coscienza viene compiuto in uno stato di coscienza in cui non c'è la brame non c'è l'egoismo non c'è la presenza è come se questi questo questo atto occulto avviene in uno stato di coscienza che non è quello di veglia quindi non c'è l'egoismo umano se volete approfondirlo lo faremo in un altro momento ma vorrei andare avanti perché comunque già ho detto tanto qualcosa che vi può fare riflettere poi dopo casomai volete che do un'occhiata un attimo a qualche commento guardo un attimo se c'è qualcuno che ha urgenza di dire commenti perché è anche giusto dunque io vedo qua un commento di Maria che l'Arcangelo Gabriele rappresenta nel suo divino annuncio la volontà di Dio sì sicuramente viene raffigurato come la volontà di Dio addirittura ci sono tradizioni che dicono che è come se avvenisse proprio la fecondazione attraverso è come se le forze che che amiamo Arcangelo Gabriele sono quelle che nel sonno guidano Giuseppe e Maria affinché questo avvenga nel più grande mistero nella più grande purezza nella più grande inconsapevolezza viene concepito senza la loro volontà la volontà del cielo vuole che questa cosa venga a loro insaputa non è una bestemmia credetemi perché il peccato c'è quando due fanno questa cosa con egoismo ma quando questa cosa avviene i corpi vengono guidati dal cielo senza che loro siano consapevoli non c'è nessun peccato quindi l'immacolata l'immacolato fatto rimane immacolato di per sé perché nessuno ha un ruolo umano in questo compito ecco vabbè comunque io adesso non riesco a seguire tutti i commenti cioè in realtà non li riesco a vedere tutti comunque sicuramente ci sarà adesso non voglio farvi perdere diciamo in questo perché se no perdiamo il filo ecco mi rendo conto che ci sono tanti commenti che forse vogliono essere espressi un attimo solo che guardo un attimo qui i commenti no vabbè non posso andare avanti andiamo a vedere abbiamo detto questa è la seconda contraddizione dunque la terza contraddizione nel Vangelo di Luca appare che la coppia è originaria di Nazareth e da Nazareth vanno a Betlemme in occasione di un censimento penso che la storia è una storia che conoscete tutti ecco nel Vangelo di Luca Giuseppe e Maria da Nazareth vanno verso Betlemme poi nel censimento ritornano a Nazareth dopo nel Vangelo di Matteo non è così loro abitano già a Betlemme e dopo la nascita fuggono in Egitto sapete questa cosa noi mettiamo insieme tutto allora Giuseppe dice vanno verso Betlemme e questi qua in realtà abitano a Nazareth e vanno a Betlemme per fare un censimento dopo finito il censimento vanno a Nazareth va bene? no invece Matteo dice non parla di Nazareth parla di un bambino che nasce a Betlemme e dopo la nascita del bambino fuggono in Egitto perché Erode vuole uccidere questo bambino sapete che ci sono i magi poi adesso ne parleremo ecco anche qua diciamo Matteo che è quello che ci parla della fuga in Egitto non dice quando ritornano noi pensiamo e ritornano dopo un po' dopo qualche giorno una settimana no attenzione dopo la morte di Erode l'angelo dice prendi il bambino perché Erode è morto e puoi tornare in Israele ecco quando muore Erode ora se Gesù nasce l'anno zero Erode nasce il quattro e muore il quattro quindi vuol dire che Gesù rimane in Egitto quattro anni ecco queste cose qua bisogna un attimo però leggerle e non possiamo mettere tutte insieme cioè se Luca dice che da Nazare vanno verso Betlemme poi dopo tornano a casa dopo che ovviamente si trovano a Betlemme perché hanno fatto un viaggio ma la volta che è nato il bambino ritornano a casa allora a Nazare allora perché Matteo dice che invece nasce a Betlemme e se ne va in Egitto ma scusa ma non dovevano andare a Nazare e poi addirittura rimane quattro anni in Egitto cioè allora o va in Egitto o va a Nazare no? cioè o abita a Nazare poi va a Betlemme o va a Betlemme è nato cioè mettiamoci d'accordo non è che può essere tutte e due io non so perché l'ingenuità popolare ci porta a pensare che deve essere così cioè se le cose stanno scritte cioè è odio che se mi raccontano che uno va a Nazareth io so che va a Nazareth se un altro mi dice no mi è andato in Egitto c'è stato quattro anni beh allora è in Egitto adesso o è a Nazareth è evidente che c'è una contraddizione no? questa è la terza contraddizione la quarta contraddizione no scusate era già questo ecco nel senso che potrebbe risultare che dopo che ritorna ritorna e viene detto in Matteo quando Giuseppe ritorna dall'Egitto avvertito dall'angelo dice e abitò nella città chiamata Nazareth quindi non è detto che torna a Nazareth ma va a abitare in una città nuova quindi vuol dire che questi qua non vengono da Nazareth vengono da Betlemme quindi sembra che ci sia un bambino che in qualche modo la coppia tutti e due nascono potrebbe dire hanno a che fare con Betlemme non è che uno nasce a Nazareth c'è una coppia originaria di Nazareth che va al censimento e durante il censimento a Betlemme nasce e invece ce n'è una che è di Betlemme e nasce il bambino a Betlemme vedete oddio cosa sta dicendo come una coppia Steiner dice questo ci sono due coppie di genitori una che abita a Nazareth e una che abita a Betlemme va bene a queste due coppie di genitori nascono e due bambini ma non nascono contemporaneamente un bambino nasce ad aprile è una coppia e un altro bambino nasce a 25 dicembre adesso lo riprendo un attimo perché so che già qualcuno di voi dirà ma questo qua sta cioccando questo qua si è bevuto il vinsanto se fosse un prete potrebbe anche essere possibile ma io il vinsanto non lo bevo anzi non faccio uso di alcol nel senso che non è vediamo un attimo dopo se va davanti rimanete lì intanto con questa duplicità della coppia e dei bambini quinta contraddizione voi sapete che Giovanni Battista perché non rimane ucciso nella strage dei bambini allora se sapete che Giovanni Battista nasce sei mesi prima di Gesù si dice a giugno e il 25 dicembre nasce Gesù allora se Erode ordina la strage dei bambini e uccide tutti i bambini che vanno dai due anni in giù ovviamente anche Giovanni Battista è un bambino della Contea che deve essere ucciso allora infatti Giuseppe e Maria scappano in Egitto per nascondersi ma perché Giuseppe perché Giovanni Battista che è nato solo sei mesi prima non muore non viene ucciso non si capisce allora o ammazziamo tutti i bambini due anni oppure c'è un'eccezione invece nel Vangelo non si parla di questa eccezione scampa misteriosamente ecco senza nessuna citazione sesta contraddizione e questa è grossa in Matteo si parla della venuta dei tre re magi mentre in Luca si parla dell'apparizione dei pastori che dicono beate cioè sapete quella gloria nell'alto dei cieli e pace intera negli uomini di solito si mette insieme si parla che c'è una scena in cui ci sono i re magi nella grotta che poi dobbiamo ancora capire se è una grotta o se è una stanza perché uno ci dice una grotta l'altro ci dice la stanza però c'è questa narrazione in cui in Matteo ci vanno i magi e invece Luca non si parla dei magi si parla di una stanza e si parla di un'apparizione di una moltitudine di angeli che dicono ai pastori che è nato il salvatore poi ci sono i pastori che vanno noi li vediamo andare nella grotta però in realtà non devono andare nella grotta devono andare nella stanza perché è nato in una stanza siamo noi che mischiamo ci dicono boh dicono la stessa cosa mischiamo un po' anche se dicono qualcosa di contraddetto non è poi così importante invece se dobbiamo fare un pensiero che sia conseguente dovremmo chiederci perché Matteo ci parla dei magi e Luca no no e perché Luca ci parla degli angeli e Matteo no no mettiamo insieme facciamo un mix come si fa di solito oggi un po' con le notizie dei TG no settima contraddizione solo in Luca nel mangelo di Luca si parla del fatto che Gesù viene portato al tempio al dodicesimo anno e all'improvviso cambia personalità sapete non lo riconoscono più lo trovano a parlare con i sapienti e da quel momento Gesù diventa un'altra persona ecco da quel momento lì si interrompe l'infanzia di Gesù e tutti i Vangeli sia Luca che Matteo non ci dicono più quello che accade dai 12 ai 30 anni ma si catapultano evitano di raccontare tutto quello che accade dai 12 ai 30 anni ma ci narrano di quello che accade sul Giordano a 30 anni Gesù si presenta da Giovanni Battista e avviene quello che chiamiamo la venuta dello Spirito Santo su Gesù quando viene battezzato ecco allora riepilogo contraddizioni in Matteo in Matteo Gesù discende per via del sangue di Giuseppe da Abramo invece e Luca discende da Adamo va bene abbiamo detto anche che c'è una discordanza fra i due figli di Davide sempre discendenti da Adamo e da Abramo e in mezzo Davide e dopo Abramo e ovviamente Abramo e dopo Adamo perché Matteo ci parla di un figlio di Davide che si chiama Salomone da cui è nata poi la genealogia di Giuseppe e invece Luca ci dice no non è Salomone ma è un altro figlio di Davide che si chiama Natan e da Natan poi viene Giuseppe questa è una contraddizione non si capisce perché Adamo Abramo perché Salomone e Natan come mai parla di due linee ereditarie diverse due genealogie diverse seconda contraddizione in Matteo la nascita di Gesù viene data in sogno a Giuseppe e in Luca a Maria l'angelo l'arcangelo terza contraddizione in Matteo la coppia abita già in Betlemme mentre Luca viene da Nazareth e va a Betlemme in occasione del censimento dove appunto nasce il bambino in Matteo quarta contraddizione viene portato in Egitto in Luca non se ne parla torna a Nazareth quinta e no quinta contraddizione Giovanni Battista non rimane ucciso pur essendo nato solo sei mesi prima e tutti i bambini vengono uccisi tranne Giovanni Battista stessa contraddizione in Matteo si parla dei re magi e in Luca invece non se ne parla e si parla dei pastori settima contraddizione solo in Luca si parla della presentazione al tempio a dodici anni dove lui appare dove Gesù appare cambiato ecco vediamo un attimo se c'è qualche domanda che adesso la cosa si fa interessante vediamo un attimo se io riesco a leggervi vediamo eh se riesco perché io diciamo vediamo se c'è qualche domanda voi siete molto pazienti vedo dalle risposte che siete molto 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 accoglienti ecco vi ringrazio per la vostra apertura state facendo un grosso lavoro a poter accogliere questi contenuti che sono diversi ecco vediamo un attimo ecco qui per esempio Maria dice c'è un punto di convergenza tra le due correnti certo è quello che adesso vorrei dirvi appunto c'è un'unione fra questi due esse questa avviene in un mistero ecco vediamo eh il mistero avviene proprio a 12 anni questo diciamo è una cosa che che dobbiamo raccontare tutte queste incoerenze sembra che i due evangelistici parlano di una persona diversa si fu analizzato è come se realmente ci fossero due coppie con due bambini che ovviamente non traspare non viene comunicato però ci sono contraddizioni e Steiner dice che queste contraddizioni sono dovute al fatto che non si parla del stesso bambino a Betlemme abita una coppia con un Giuseppe che discende da Abramo della linea salomonica e questa ne parla Matteo questa coppia nasce il bambino il 3 aprile possiamo dire dell'anno 0 ed è il bimbo appunto della corrente salomonica allora attenzione in questo corpo che nasce il 3 aprile dalla via salomonica del Vangelo di Matteo si incarna un'entità molto evoluta il più grande iniziato terrestre che porta il nome di Zaratustra quindi il 3 è simbolica però immaginiamo in aprile nasce il bambino che è la reincarnazione di Zaratustra appunto a questi genitori che noi possiamo dire che abitano a Betlemme va bene abitano a Betlemme va bene la via salomonica a Nazareth invece abita un'altra coppia e Giuseppe discende da Adamo adesso io vi voglio perché c'è questa differenza fra Adamo e Abramo Abramo è un patriarca ma Adamo è il primo perché dice Adamo perché questo bambino che nasce il 25 dicembre invece a Betlemme va a Betlemme a causa di un censimento è quell'arcangelo umano di cui vi ho narrato prima è per questo che si ricollega ad Adamo Adamo da qui è stata trattenuta una parte che non si è mai incarnata prima nasce questo bambino purissimo il 25 dicembre nella coppia che originaria di Nazareth va a Betlemme questo arcangelo umano è quello che dà il corpo al bambino del 25 dicembre quindi in aprile nasce la reincarnazione del grandissimo iniziato Taratustra il 25 dicembre a Nazareth e non a Nazareth a Betlemme dalla coppia di Nazareth nasce un arcangelo umano mai incarnato prima che in realtà proviene dalla corrente di Adamo spero che sia spero che che possa di essere stato chiaro fin qua anche se mi rendo conto che dovete accogliere quindi ci sono due correnti attenzione che adesso li uniamo la corrente di Salomone che è Zaratustra dal Vangelo di Matteo la corrente di Natan che è Adamo arcangelo umano Vangelo di Luca quindi Matteo Zaratustra Salomone e Luca arcangelo umano Natan dunque possiamo dire questo e la magia avviene al dodicesimo anno ora questi due bambini entrambi si trasferiscono a Nazareth a loro tempo e si potrebbe dire che non è che giocassero insieme però vivevano entrambi queste due coppie a Nazareth e questi bambini erano molto diversi perché ovviamente la reincarnazione di Zaratustra era un bambino brillante un bambino molto intelligente molto avveduto e scaltro invece il bambino che proviene dall'arcangelo umano era un bambino cosmico un bambino scollegatissimo piena di grazia potremmo dire si dice che parlava un linguaggio non umano che soltanto sua madre poteva comprendere ecco gli apocrifi dicono ecco i bambini crescono e cosa succede? un fatto occulto succede che come dice il Vangelo di Luca si viene si parla scusate che perché non è tanto facile anche io devo un attimo ecco in Luca si leggere una mappa in Luca si dice che il bambino potremmo dire il bambino che nasce da Adamo quindi il bambino l'arcangelo purissimo viene portato al tempio va bene? quindi questo bambino che viene portato al tempio adesso accade qualcosa che potrebbe sembrare spiacevole ecco siccome era un'individualità che non è non si è mai incarnata prima non aveva un vero e proprio io era un io che si trovava alla prima incarnazione quindi non era allo stesso livello diciamo che poteva contenere uno Zaratustra però se ricordate io ho detto serviva un corpo purissimo ma serviva un'individualità potentissima quindi bisognava fare in modo e qui la cosa diventa surreale che queste due individualità che queste due anime questo spirito si unissero in un'entità quindi cosa accade che l'anima di Zaratustra dal corpo del bambino di Matteo che proviene dalla corrente salomonica entra nel corpo del bambino mai incarnato prima quindi Zaratustra passa nel corpo del bambino purissimo cioè l'arcangelo umano si ritrae come e lascia posto all'individualità di Zaratustra il quale prende possesso di un corpo purissimo a 12 anni quando avviene la presentazione del tempo il cambiamento repentino che è nato in Luca denuncia annuncia il fatto che Zaratustra comincia la sua vita in un altro corpo voi direte ma è surreale non è credibile che ecco questi cambi di corpi credetemi cambiano e che accadono più spesso di quanto noi crediamo noi siamo spesso non dico posseduti però questo tipo di trasferimento sono accaduti nelle storie occulte e in questo caso ancora di più cioè serviva che Zaratustra entrasse a abitare in un corpo purissimo mai incarnato prima voi direte ma e che fine fa il corpo di Zaratustra muore il bambino che è nato il 3 aprile della corrente di Salomone piano piano si spegne perché provo Dio è come se non avendo più l'artefice della vita viene a mancarsi quindi rimane soltanto il corpo del bambino dell'arcangelo puro però che porta in sé lo spirito l'individualità di Zaratustra ecco dai 12 anni fino ai 30 anni Steiner ci parla di tutta e non è narrata nei Vangeli di quelli che sono gli accadimenti di Gesù di Nazareth in giro per la Persia per l'Egitto per l'India e i viaggi che Zaratustra compre all'interno del nuovo corpo del bambino purissimo ci sono cose che adesso non narriamo adesso ma ne parleremo poi con Anna il 23 di dicembre riguardo a questo periodo diciamo che soltanto la cronaca occulta ci può dire fino a che a 30 anni Zaratustra si presenta si presenta nel corpo del Gesù mai cioè purissimo sul Giordano questo è il momento in cui avviene questa cosa meravigliosa no in quel momento in cui entra dall'alto dei cieli con una visione di colomba questa entità solare che noi chiamiamo Logos il figlio di Dio il principio la seconda persona della Trinità che opera dalle stelle come forza di configurazione stelare come forza del sole animatrice di vita entra nel corpo di Gesù esce Zaratustra e Zaratustra va nei mondi spirituali smette di partecipare diciamo all'evoluzione e il Cristo entra nel corpo di di quell'essere umano che lo ha condotto fino ai 30 anni a un'evoluzione grandiosa ma adesso non è più necessario cioè Zaratustra non può compiere il mistero del Golgotha non può andare in croce Zaratustra non ha la possibilità di fare quello che il Cristo può fare serve un sangue divino serve che il Dio del sole venga a abitare dentro un corpo purissimo un corpo virginale che non ha mai conosciuto il peccato per poter poi andare sulla croce e versare in sacrificio il sangue per tutta l'umanità ecco io ho concluso la mia narrazione e vorrei dirvi e vorrei chiedervi adesso se avete qualche domanda da fare di poter farlo insieme ecco abbiamo fatto anche troppe cose ecco vediamo un attimo un attimo se c'è qualcuno che fa domande ecco dunque vediamo se c'è qualcuno io cerco di prendere in esame quelle che siano un po' inerenti ci sono tante domande ecco ci sono domande che ci portano un po' fuori riguarda se Stein chiede all'anticristo la risposta è sì crede all'anticristo però non è il caso adesso di parlarne ecco vediamo ancora se c'è qualcuno Cristo è uno spirito solare cosmo ancora giusto Luciano e cosa possiamo dire la convergenza l'abbiamo visto i due correnti si uniscono proprio al dodicesimo anno non so dite pure se c'è qualche cosa che vi viene in mente qualche dubbio qualche scandalo qualche scandalo che ho provocato in voi vediamo un po' no lo vedo che state assimilando e state accogliendo con spregiudicatezza questa è una cosa molto bella ecco niente adesso non vedo delle domande particolari cioè vedo un po' di stupore ma è normale ecco ecco ditemi pure c'è qualche domanda in particolare ovviamente queste comunicazioni voi le trovate nei testi di Rudolf Steiner editi dall'editrice antroposofica nel Vangelo Steiner ha fatto delle conferenze quando era in vita sul Vangelo di Matteo si chiama proprio il Vangelo di Matteo di Rudolf Steiner il Vangelo di Luca di Rudolf Steiner e il Vangelo di Rudolf Steiner e in questi testi si parla di quello che stasera abbiamo in qualche modo discusso ecco io stasera mi fermo qua perché volevo parlare della nascita diciamo di quello che è ecco noi potremmo anche dire tante potremmo anche rispondere per esempio non ho detto perché i magi vanno a trovare perché tre magi dall'Oriente Caldei che vengono dalla Persia vanno a trovare il bambino nella mangiatoia io penso che l'abbiate capito perché quei magi che vanno a trovare vanno a trovare Zaratustra la reincarnazione di Zaratustra loro riescono come astrologi a sapere che sarebbe nato il suo maestro Zaratustra e vanno adorarlo ed è quello di cui ci parla Matteo Luca non ci parla dei magi perché ci parla di un altro bambino ci parla del bambino che non si è mai incarnato prima Matteo ci parla invece del bambino che fu Zaratustra e i magi vanno a portare i doni a lui perché sono coloro che riveriscono la reincarnazione del loro maestro vediamo un attimo ecco qua viene che dal dodicesimo anno al trentesimo vengono narrate da Steiner si Steiner nel quinto Vangelo ci parla degli avvenimenti io ne ho un po' parlato quando abbiamo fatto il periodo della Pasqua del quinto Vangelo adesso stasera non riusciamo a parlare può darsi che casomai quando ci incontriamo il 23 possiamo riprendere e parlare delle vicende che sono accadute dal dodicesimo al trentesimo anno a Gesù a Gesù diciamo il Gesù Zaratustra ecco niente io se non ci sono domande ancora non mi voglio trattenere perché poi tra l'altro mi scuso ancora ho cominciato in ritardo perché così preso dall'euforia ho lanciato la registrazione in diretta dal mio profilo Facebook anziché da Focus poi per fortuna Anna mi ha ripreso e mi ha detto guarda che stai trasmettendo da un'altra parte e allora io vado da Bethlehem e vado a Nazareth e viceversa ecco è come se fosse approdato dopo quindi ho dovuto ripetere e mi sono un po' ho fatto un po' di confusione scusate quindi adesso tra l'altro adesso ne parleremo poi il 23 ecco questi questi incontri non finiscono qui ci sarà il 23 un altro conto però vedrete che ci sono delle sorprese in atto perché con Anna abbiamo progettato qualcosa che spero vi faccia piacere ci saranno degli incontri nel 2021 con cadenza mensile in cui ci incontreremo come facciamo stasera casomai vi spiegheremo meglio il 23 in cui ci potremo rivedere ci incontreremo una volta al mese ecco vi do soltanto questa new ecco fino a luglio ecco lo facciamo dunque vediamo un attimo i libri di Steiner voi potete indifferentemente cominciare da Matteo poi Luca o anche il quinto Vangelo io preferirei cominciare forse dai due Vangeli il quinto Vangelo casomai farlo dopo perché casomai vi arrivano delle informazioni che vi possono no ecco adesso io non vedo ci sono tante domande ecco io sicuramente se c'è qualcosa che stasera mi annoto mi prendo la premura di casomai di riportarlo anche delle domande ecco perché vedo che siete sì la domanda è ci sono due Giuseppe e due Maria sì ci sono due Giuseppe e due Maria voi direte ma come mamma mia due Giuseppe due Maria due Gesù erano nomi molto comuni pensate che sotto la croce ci sono tre Marie quindi Maria e Giuseppe quando nasceva uno che erano femmine erano tutte Maria tutte Giuseppe o Giovanni ecco erano nomi molto comuni ecco potrebbe sembrare una coincidenza però tutti si chiamavano così ecco e sì io stasera non ho parlato anche della forza del Buddha perché c'è anche la partecipazione dell'entità del Buddha che è quella che si siccome ho accennato ai magi che portano sono legate alla corrente di Zaratustra in Matteo in questo caso in Luca invece ci viene parlato dell'apparizione dei pastori come se fossero in realtà il corpo di luce che il Buddha ha come entità perché noi sappiamo che il Buddha diventa un'entità molto elevata del regno angelico e collabora e va come a incorporarsi a legarsi insieme a Zaratustra nel suo corpo astrale mentre l'individualità potremmo dire è di Zaratustra il corpo astrale il corpo di resurrezione del Buddha va come a legarsi col bambino quindi ci sono la corrente dei misteri del sud e misteri del nord diciamo l'oriente Zaratustra e il buddismo che vanno come a fondersi insieme in Gesù quindi abbiamo due correnti le più grandi correnti mondiali di elevatezza che vanno a portarci ad aprirci la strada verso il mistero del Golgotha ecco vediamo se c'è un altro qualche domanda sono tante espressioni vostre che mi fanno molto piacere che non siete scandalizzati e siete aperti e perché mi rendo conto che se voi siete qui probabilmente non siete fuori dal comune nel senso che cavalcate sicuramente qualcosa non cavalcate le paure degli altri viviamo in un tempo in cui si cavalcano tante paure e ognuno parla della propria paura io penso che chi è spregiudicato come voi che riescono a accogliere queste comunicazioni che sono veramente fuori dal comune non vi debba non ci sia nessuna paura da parte del fuoco infatti se ricordate durante il periodo della Pasqua si ricorreva sempre questa frase non abbiate paura non avete avuto paura infatti siete riusciti a superare tutta questa problematica dell'essere della pandemia perché si parla soprattutto del virus ma non si parla mai dell'essere della pandemia dell'arcangelo della pandemia chi è questo arcangelo della pandemia è un essere che ha dei propositi che si avvale sicuramente delle epidemie per creare delle conseguenze ma nella sua mente ha il progetto di fare qualcosa sull'umanità di far crescere di far fare un salto qualitativo all'umanità l'essere della pandemia finirà e non dico quando perché se no se lo dico va a finire che si fa la figura di fare i chiaroveggenti e voi sapete che non lo sono però questo essere della pandemia che non ha niente a che fare con il virus è una cosa e la pandemia l'essere arcangelico della pandemia è un proposito divino evolutivo nel confronto dell'umanità sta andando avanti e ha prodotto i suoi risultati quindi se avete superato e avete adempiuto e avete siete comunque piaciuti a questo essere arcangelico non avete nulla da temere ecco io vi ringrazio per la vostra pazienza e spero di vedervi numerosi il 23 quando ci incontriamo con Anna e faremo stiamo facendo la preparazione Natale 23 sarà proprio il culmine in cui ci incontreremo e daremo tutte le indicazioni per vivere le 13 notti sante con grande intensità e con la massima apertura che eroveggente ecco perché ovviamente chi è più disposto ecco io vi ringrazio e lo so qualcuno mi dice ecco scusa hai ragione questa cosa però è legittima io ho detto perché Giovanni Battista non viene ucciso da Erode è molto semplice perché se il bambino di Matteo nasce il 3 aprile e non il 6 gennaio nasce il 25 dicembre Giovanni Battista nasce dopo Giovanni Battista nasce a metà dei due bambini in giugno quindi la strage degli innocenti avviene in maggio Giovanni Battista non è ancora nato e quindi non viene ucciso perché nascerà dopo c'è riferimento fra Giovanni Battista prima dei 6 mesi e col bambino che nasce il 25 non viene nominato questo bambino del 30 aprile ma è quello di cui ci parla Matteo non so se mi sono spiegato sì Giovanni Battista è la reincarnazione dell'Elia però è ovvio che sono tanti concetti che devono essere non bevuti adesso noi stasera vi ho fatto un po' ubriacare anche io sono un po' ubriaco perché lo spirito ubriaca si può banchettare con lo spirito ma troppa troppo alcol fa troppo spirito dà la testa quindi io vi invito a elaborare a digerire questa conoscenza e poi ci sarà occasione sicuramente di poter ampliare i concetti è bello che rimangano anche delle domande aperte perché sono quelle che creano la volontà di andare avanti ecco e spero di rivedervi di risentirvi il 23 e poi di incontrarci anche di persona io sono a Bologna ma non è escluso che ci si possa essere un evento in cui ci siamo incontrati quest'estate con diverse persone abbiamo fatto un evento ci siamo incontrati e l'invito è proprio a primavera quando tornerà la bella stagione di poter incontrare anche voi ecco io vi ringrazio vi auguro buonanotte e l'appuntamento prossimo con Anna il 23 alle 21 e 30 sempre su su focus ciao a tutti e grazie della pazienza della tolleranza a presto ciao